Per questo fine settimana darò anche la delega al vice sindaco, per adesso si apre una fase nuova che porta a un ulteriore rafforzamento dell'attività di giunta con due ottimi assessori, una squadra già molto buona, la volata finale per gli ultimi mesi del nostro mandato, grande concentrazione, grande energia e grande forza. I nomi degli assessori sono Raffaele Del Giudice, una persona che ha fatto un lavoro straordinario in questi anni in Asia, un uomo della società civile, una persona impegnata per bene e di grande qualità e Caterina Pace che sostituisce Franco Moxedano, espressione anche di quelle forze politiche che in questi quattro anni mi hanno sostenuto, anche un medico, una donna della società civile, quindi si rafforza la componente civica della nostra amministrazione. Non cambia però l'assetto politico, le ha detto, anche dopo le dimissioni, se ho capito bene, un po' cruente di Sudano. No, non sono cruente, è una fase che si è chiusa, che era nell'area e credo che alla fine sia giusto così. Sì, noi dialoghiamo con tutti ma continuiamo con lo spirito originario di questa avventura, completa autonomia dal sistema e grande collegamento con i nostri cittadini. Io mi sento sempre di più il sindaco di questa città, di questa gente e quindi non mi faccio chiudere in un recinto partitico politico. La SIA è stata per me un'esperienza straordinaria, continuerà ad esserla in qualche modo perché lì ho una squadra di dirigenti, di lavoratori, lavoratrici, funzionari di altissimo livello. Insomma abbiamo costruito un'ottima squadra e un buon lavoro che deve continuare.